In Commissione Ambiente l'Assemblea regionale da lei presieduta, è un momento di lavori molto intensi, cosa state trattando? In questo quadrimestre con i colleghi della Commissione abbiamo deciso di trattare una tematica che è quella del Governo del territorio che è già partita con la riforma della legge sulle reprotette, siamo in fase di discussione degli emendamenti parallelamente incardineremo a breve il disegno di legge sul recepimento del testo unico in materia di edilizia, il DPR 380 del 2001 si tratta di un disegno di legge condiviso con la consulta regionale degli architetti e allo stesso tempo e a breve inseriremo anche le norme sul Governo del territorio e in questi giorni è in discussione il disegno di legge sulla riqualificazione dei centri storici questo gruppo di norme chiaramente sono in linea con quello che è il nostro obiettivo che è quello appunto di riqualificare la normativa, riorganizzare la normativa complessiva sull'urbanistica e ci auguriamo di poter portare in aula questo complesso normativo entro la fine dell'anno Da cosa dipenderà? Dipenderà innanzitutto dalla volontà dei colleghi parlamentari, nel senso che non bisogna negarlo il problema dell'attività legislativa è molto spesso anche legato al numero degli emendamenti che vengono prodotti è un'attività assolutamente legittima quella di emendare e modificare il testo base però è chiaro che molto spesso il complesso degli emendamenti che arrivano nelle commissioni di merito appesantiscono eccessivamente il lavoro e quindi lo rallentano io mi auguro che essendo testi condivisi perché è chiaro che nascono da una concertazione all'interno della quale si è inserita anche l'attività di Governo gli emendamenti prodotti siano diciamo minimi un altro elemento che rallenta spesso i disegni di legge è il passaggio in commissione bilancio io ho esitato, la mia commissione ha esitato oltre sei disegni di legge che purtroppo sono ancora all'interno della commissione bilancio per l'approvazione di quelle che sono le spese da ultima la norma sulle attività sportive, il disegno di legge sulle isole minori lo stesso disegno di legge sul servizio idrico sono dei testi importanti che sono stati citati più di sei mesi fa e che purtroppo ancora non possono vedere l'aula perché manca appunto questo passaggio in commissione bilancio Quale potrebbe essere il primo di questi provvedimenti ad approdare in aula? Molto probabilmente il disegno di legge sul recupero dei centri storici perché si tratta di una serie di norme che alleggeriscono le procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi che non prevede spese per cui non passerà dalla commissione bilancio e transiterà direttamente in aula mentre per quanto riguarda la norma sulle aree protette lì c'è un passaggio obbligatorio in commissione bilancio quindi presumibilmente arriverà in aula intorno a dicembre